ciao ragazzi benvenuti in questo video come state spero tutto bene oggi è il primo anniversario è passato un anno da quel 18 marzo del 2020 quelle immagini che fecero il giro del mondo le immagini dei camion di militari a bergamo che trasportavano le vittime della malattia che vi devo dire da quel giorno non vedevo non vedi più il telegiornale ero talmente tanto scioccato che quelle immagini mi rimangono ancora tuttora impresse nella mente e rivedendole fa ancora di più il brivido da quel giorno il telegiornale non lo vedi più fin quando non si parlava niente più di questa malattia speriamo 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 che andrà tutto bene stamattina ci sono stati dei riti per ricordare quelle brutte tragedie questo sarà l'anniversario del ricordo delle vittime e cerchiamo di ricordarlo perché è stato un anno brutto non è che vicesimo non ci sono più i morti ma continuano a morire le persone mi raccomando iscrivetevi attivate la campanella un saluto dalla campania zona rossa mi raccomando stiamo a casa perché ne usciremo arrivederci